Buon pomeriggio a tutti ragazzi! Allora, faccio questa storia perché volevo ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle ore 22 con Leo Talk Mondiali Io sto preparando la mia top 3, flop 3 portieri finora Quindi poi stasera la discutiamo insieme Quindi, ore 22, Leo Talk Mondiali Per il resto io e Kino siamo rientrati a casa, stamattina abbiamo fatto dei giri Rosy va a Roma e poi la raggiungiamo nel weekend Quindi sarà una separazione breve E basta, vi auguro una buona giornata Argomento del giorno Regali di Natale Lo so, argomento un po' scottante Soprattutto per una persona come me che solitamente parte in ritardissimo Invece quest'anno mi sono mosso in anticipo Ho già le idee abbastanza chiare E poi parteciperò a una challenge molto carina Che vi farò vedere appunto nelle prossime settimane Ma nel frattempo vorrei sapere da voi Quale regalo vorreste ricevere Sperando che i desideri si realizzino Vi lascio un box domande E fatemelo sapere lì Sperando che i desideri si realizzino Grazie a tutti! Ciao! 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 Grazie a tutti.